Di Letta Leotta, dura reazione dei social contro Dazon, vergogna. Di Letta Leotta, gli abbonati di Dazon sono sul piede di guerra, pioggia di critiche e polemiche su social network. Ci sono voluti pochi istanti, perché Dazon finisse in tendenza su Twitter. E anche sugli altri social network, per la verità, non si parla d'altro, gli utenti sono neri, che più neri proprio non si può. E non sembrano avere alcuna intenzione di mandar giù questa notizia restandosene in silenzio. Sebbene manchi ancora la conferma ufficiale, sembra ormai certo che da dicembre non si potranno più vedere i contenuti della TV in streaming su due dispositivi contemporaneamente. Il che costringerà quanti si erano accordati per condividere l'abbonamento a rivedere i propri progetti. Tant'è che il coro, su Twitter ed intorni, è praticamente unanime. Gli abbonati, dicevamo, non l'hanno presa affatto bene. Critiche e polemiche stanno fioccando in ogni dove, lasciando trasparire la comprensibilissima amarezza dovuta ad una notizia che è piombata dal nulla. Di Letta Leotta, da Son nel mirino dei social la maggior parte degli spettatori lamenta il fatto che le condizioni contrattuali siano state stravolte. Potrai guardare due contenuti uguali o differenti, c'era scritto, allo stesso momento e su due dispositivi diversi. E invece, da dicembre in poi potrebbe non essere più così. A giudicare dai commenti giunti dal popolo dei social, i fan di Letta Leotta e della serie A, sono pronti a battersi per rivendicare quello che reputano essere un loro diritto. Le famose associazioni dei consumatori, scrive un utente, devono mettersi l'elmetto e andare in guerra. Se questo fosse vero, sentenzia un altro, riferendosi alla notizia, sarebbe necessaria una rivoluzione degli abbonati, già sfiancati da un servizio spesso imbarazzante. Dimmi che vuoi fallire, recito un ulteriore commento che fa il verso ad uno dei refrain cult dell'ultimo periodo, senza dirmi che vuoi fallire. Vediamo se i club di serie A, stavolta tuteleranno i tifosi.